Siamo in compagnia di Alessandro Gensini di Nomination. Allora Alessandro, come sta andando la serata alla Vogue Fashion Night Out? In modo veramente glamour, siamo veramente contenti, abbiamo tantissime persone che stanno certe volte, anche per prima volta, vedendo il negozio e c'è un'atmosfera, un'energia incredibile, veramente incredibile. Che prodotti presentate? Allora, diversi prodotti, ma soprattutto il nuovo Composable in argento, perché quest'anno, questo mese, celebriamo i 25 anni dell'azienda e volevamo celebrarle nel modo più glamour, più fashion e soprattutto divertente. E quindi abbiamo pensato di abbinare i 25, il nostro compleanno, con questa Vogue Fashion Night Out, che è veramente entusiasmante. Sì, è vero, c'è un sacco di gente, confermo. E progetti per il futuro? Abbiamo tantissimi progetti, ma uno in particolare che non posso svelare. Posso dire solamente che sarà un bel bonbon. Allora ci risentiremo. A prestissimo.